Pochi fanatici, ci vediamo domenica 11 febbraio al Bologna Nerd Show, dove sarò insieme a Federic95 Ita e Tuberanza per passare una giornata insieme a voi. Saremo in fiera già dalla domenica mattina, ma più precisamente ci troverete alle ore 14.45 sul palco youtuber e poi nell'area signing per foto, autografi e regali. Vi raccomando, non mancate! Hey la pochi fanatici, io sono TheLars e bentornati in questo nuovo video di spacchettamento Oggi in compagnia di Federic95 Ita e Tuberanza, date il benvenuto agli starter! Ciao melatonie! Ciao gente! Ultra Prisma and Gary! Oggi siamo qui per un'espansione veramente bellissima, ovvero Pokémon Sole e Luna Ultra Prisma. Ringraziamo la Jedis per averci gentilmente fornito questi pacchetti e vi ricordo che da oggi potete trovarli in tutte le edicole per spacchettare insieme a noi. E inoltre vi ricordo anche che l'11 febbraio domenica saremo al Bologna Nerd Show tutti e tre insieme dalle ore 14.45 sul palco youtuber dove spacchetteremo insieme a tutti voi. Quindi non mancate Bologna Nerd Show 11 febbraio! Ricordiamo Dani che le carte che troveremo sul palco le regaleremo a tutti i presenti, quindi fuori serie comprese, come è già successo al Modena Nerd Show, giusto? Esattamente, proprio come al Modena faremo la stessa cosa, quindi non mancate! E adesso, per questo spacchettamento in cui andremo ad aprire dieci bustine a testa, quanti like devono lasciare? Mille like ogni GX che trova Tuberanza! Ok, mille like per ogni GX! Ragazzi, vi ricordo che in questo preciso momento sono usciti anche tutti gli altri due video di Bederick e di Tuberanza sui loro canali, quindi assicuratevi di guardarli tutti e tre e adesso, cominciamo? Correte perché sul mio DELAZE non l'ha mai scolato così tanto! Tra l'altro, ricordiamo Dani, che comunque noi li metteremo tra i consigliati, su sopra, nelle schede a fine video, ci sarà tutto quello di cui avete bisogno. Vi ricordo il punteggio ufficiale delle carte in questa espansione, c'è una nuova tipologia, una nuova rarità di carta, che è la carta Prisma, che varrà, proprio come abbiamo fatto per le iridescenti qualche mese fa, un punto, come le GX normali. Le Full Art, due punti, le Hyper, tre punti e le Fuoriserie, quattro punti. Anche se le Hyper sono Fuoriserie, facciamo che solo le Hyper ne valgono tre. Siamo pronti a cominciare, voi avete già aperto? E' certo, che stiamo aspettando? Sono arrivato adesso, un secondo, c'avete già fretta di essere stracciati? Bene ragazzi. No, Minco c'ha già fretta di stracciare le carte che troverà. Bravo! Ok, adesso io chiamerò le carte e voi andrete avanti insieme a me una alla volta. Roseria. Ciao Dani. Kipo. Ciao Dani. Eletta base. Come, non state andando avanti ragazzi? Sì, sì, stiamo andando avanti. Non state andando avanti? No, perché voi non mi avete aspettato, maledetti, quindi io vado avanti proprio. Oltranza e trovo niente. Ma io trovo un Magierna meccanico. Io trovo la zia di Federick. Ancora, come si è ristampata ogni espansione, stacata. Zia di Federick e Jax. E addirittura ragazzo, la zia di Federick, quella del set base. Ma vale così tanto, cavolo. Non so, ma giovane all'epoca, eh. E' una bella, 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 vizia all'epoca, eh. Vai, secondo pacchetto, questa volta possiamo andare insieme o volete andare direttamente all'ultima bustina? Io stavo per girare la reverse. Ragazzi, ma io tra l'altro ho iniziato con un tabulele, neanche Olo. Va bene. Executor, energia, archcrow, panni, tartonator, magne, maite, niente, Lucario Olo. Camilla e garcompo. Guarda che sto aspettando che venga messo a fuoco il mio pacchetto. Io garcompo ho preso, eh. Garcompo. Garcompo. Citazioni. O comunque però non ha ancora solo like che hanno lasciato, perché non ha ancora tolato niente. Eh, infatti, infatti. Pokémon fan club, Pessimian e come ultima carta, wow, 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 amici miei. Shemin. Ah, bella. Shemin. Sce sempre. Sì, sì. Vai, vai. Terzo pacchetto. Uno, due, tre, quattro. Voglio aprire lui. Quattro. Ghiratina. Ok. Pronti? Vai, 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 vai. Sì, sì. Vulpic Salola. Mi sento sto pacchetto potente come pochi. Bene, vediamo. Stanchi. Purtro di pochi. Come pochi. Roselia. Cosmog. Energia. Monferno. Robofuoco. Scorupi. Schermo Ordini. Bronson Gravers. E niente, ragazzi. Ragazzi, ragazzi, allora. Innanzitutto per cominciare iniziate cliccando mille like. Grazie. Tanto per cominciare. Tanto per iniziare. Poi adesso ci arrivo. Eh, attenzione. Ragazzi, oh, l'ho annunciato. Ho detto questo pacchetto lo sentivo potente. E potente era Grotol, Frugli. Aspetta, unione. Yanmega. E come ultima carta arriviamo. Full Art. Palkia GX. Full Art. Oh, allora 2000 like perché vale due puni. Fate, fate, fate. Ragazzi, 2000 like al video subito. Subito. Allora, ragazzi. Pronti con la nuova bustina? Ragazzi, finalmente trovo qualcosa. Era ora, era ora. Io l'ho fatta finalmente. Era ora, dai. Voglio un altro pacchetto potente. Eccolo qui. A che bustina siamo, ragazzi? Ne mancano una, due, tre, quattro, cinque, sei. Se non sbaglio siamo alla quarta. Esatto. Oh, ragazzi. Comunque incredibile. In questo video sto avendo il radar. Quelle che prendo, che sento potente, sono potenti. Incredibile. Ho già visto brillare. Solo che non sono full Art pazzesche. Io sono arrivato già all'ultima e non ho trovato niente, purtroppo. Ah, ok. Allora ci arrivo pure io all'ultima. Oh, vorrei far notare questo mana, figo, che nello sfondo c'è l'ultravarco, Dani. Guarda che figo. C'è l'ultravarco nello sfondo. Non solo. Vedete che... C'è anche tipo in un'altra carta che ho spacchettato in uno dei vostri video. Allora, ragazzi, per cortesia, delle vostre carte comuni non mi interessa un f***o a nessuno. Perciò, per cortesia, adesso lasciate altri mille like, perché abbiamo... Wow, necrozma ali dell'aurora GX. Oh, mio Dio. Ecco, ecco, ok, ok. E siamo già a 3.000 like che dovete lasciare. Mamma mia, che pazzesca è questa. No, vabbè, ragazzi. Mirko, mi sa che oggi... Eh, sta 3, Mirko. Today. Vorrei far ricordare che io posso ancora trovare live per attenzione. Sì, sì, sì. L'ipercop, l'ipercop, l'ipercop. Attenzione. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Allora, un attimo, ragazzi, che devo sentire quale pacchetto è potente. Questo. L'ho sentito, l'ho sentito. L'ho sentito. L'ho sentito. È meno male che l'hai sentito. L'ho sentito? Tu l'hai sentito? Sì, sì, ecco qua. Ce l'ho. Ce l'hai. Oh, mio Dio. Oh, mio Dio. Ragazzi, vabbè, ok. Ligitong. Vai, Ligitong. Quizzle. Ibis. Silent Gate. Tartwig. Energia Psyco. Tartonator. Bronzong. Gorrado. Rom Elettro. E io niente. Ragazzi, Dark Ray Prisma. Oh, mio Dio. No, bellissimo Ragazzi. No, tutto vede, tre punti Mirko. Attento Mirko. Mirko, Mirko Dark Ray Prisma, te lo regalo quando te lo porto? Beh, è bellissimo. Exeggutor di Alola ho trovato. Hai attento Mirko che due punti a recuperare sono niente. Vai, vai. Aspetta, sì, vai. Sans Rivalola, Pulpix Alola, Dupider, Piplup, Energy Aqua, Skantank, Camilla, Cosmo M, Lunala Prisma. Bello, bello. Lunala Prisma. Ah, e faccio un punto anch'io. Bello, bello, veramente bello la Prisma. Ok, quindi siamo 3, 1, 1. Si può ancora decidere tutto, mancano quattro bustine. Allora, devo trovare il pacchetto potente per prendere le distanze. Allora, io prendo Sol Galeo. Vai. Vai. 1, 2, 3, 4, 1 e 2. Io non devo guardare perché se guardo vedo magari l'arcobaleno e poi succede che esulto prima ancora di trovarla. Quindi evito di guardare. Vai, 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 vai. Magmar, Cinchar, Sneasel, Likitang, Carnivine, Energy Acciaio, Gabite, Manafi, Yanmega, Roselia Reverse e tipo 0. Niente, mannaggia. Niente. Mirko? Mirko? Niente, Mirko. Arquanid. 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 Ok, vai. Gli ultimi 3 pacchetti. Ragazzi, io ci credo ancora. Ma mi sa che ci crede anche Mirko ancora. Eh, ma anch'io. Anche io, non lo so. Arrivati a sto punto. Crederci, è d'obbligo. Non devo guardare. Quindi guardo la telecamera per non vedere se c'è qualcosa di luccicante. Vai, vai. Pronti? Vai. Aspetta. 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 Ok, bronzo. Pacirisu, Senshiro Alola, Bulpix Alola, Bronzo, Ardiopider, Energialotta, Dripplim, Martes, Lopanni, Grothal Reverse e Cresselia Olo che è molto bella ma non mi serve per i punti. Eh, va bene. Proton Vortice. Perfetto. 3, 1, 1 e mancano due pacchetti. Ragazzi, qui qualcuno, qui qualcuno mi sa che farà un soccasso. Qui qualcuno ha in serbo la cartuccia finale, eh. Qualche pacchetti mancano, raga? Due. Due, ok, vai. Sono pronti? Yes. Non ho fatto niente ultimamente, eh. Non sono io quello con la cartuccia finale, eh, vi avviso. Ok, io ho sentito qualcosa. Vediamo. Tartwig, Electabuzz, Caribee, Glemiao, Snowver, Energia Fuoco. Corrado, Crenidos, Dactriolola, Toxicroak e Rotongero. Niente, Uppah. Io ho trovato uno shaming, ragazzi, che sinceramente non ho mai visto. Eh, è tipo tutto quanto, ragazzi, io ce l'ho qua, ce l'ho qua. Allora, non so qual è, spero che non sia palchia, ti prego dimmi, non è palchia. Vai. Ok. No. Cos'è? Lì, Fion GX. Ah, vabbè, ho trovato una GX. Sì, ma non lo volevo. Ma non lo volevo, Lino GX. Scrivo, scrivo. Apre, primo palchia. Quindi siamo 3, 2, 1. Sì. Bingo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sto aprendo l'ultimo io, raga, eh. Vai, sono pronto. Ragazzi, si recine tutto qui, eh. Io volevo qualcos'altro. Vai, 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 io lo regalo, lo devo vincere, lo devo vincere, lo devo vincere, lo hai per vinco. Dai. Pronti? Dai, aspetta, aspetta, vai. Sì. Glemiao, Dryflun, Sensoryu, Alola, Hippopotas, Riolu, Energia, Eletro, Manafix, Camilla, Grotol, People of Preverse e niente, Shinotic, quando mi dà niente. Mirko? Ah boh, ma snow, raga, io penso che ci sia qualche problema sui miei pacchetti. L'Axery, Olo, con l'Ultravarco, quanto è bello L'Axery Olo con l'Ultravarco, Dani. E quindi questa sfida con tre punti, a due, a uno, se la giudica Mirko. Yes, gente, yes. Complimenti, complimenti. Ragazzi, ragazzi, se volete vedere come sono finite tutte le sfide, ovviamente come vi ho già detto, guardate tutti e tre i video perché mi sa che chi più chi meno abbiamo un po' tutti sculato. Sta buono, chi più chi meno no. Chi più, chi meno, qualcuno ha esagerato con l'oscuro. Chi più, 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 più. Ma chi l'ha vinta questa? Mirko? È ok, poche fanatici, per questo spacchettamento ci possiamo fermare qui. Mirko ha vinto, ha trovato due GX di cui una full art. Fed ne ha trovata una, quindi sono quattro punti. Dobbiamo arrivare a quattro mila like. Sono tanti, ma so che ce la possiamo fare. Se non arriviamo a quattro mila like quando ci sono tutti gli starter in un unico video, non vedo come potremmo raggiungerli. Esatto, è vero. Vero, 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 vero. Quindi conto su di voi con tanti bei pollici in su. Io ringrazio Federic e tu, Veranza, per aver partecipato. Noi ci vediamo con i prossimi video in cui ci sarà ancora Ultraprisma sul mio canale, non vi preoccupate. Vi saluto e noi ci vediamo alla prossima. Bye bye. Ciao naturi. Ciao naturi.